Con gli amori appena nati, con gli amori giusti di ti, con la gioia e il cordone della gente come me. Un altro successo per Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobble, ovvero il trio da il volo, che di sera al Teatro Valle dei Tempi di Egrigento, ha fatto registrare il tutto esaurito come nella serata precedente. Due ore di concerto che ha coinvolto un pubblico di ogni fascia di età. Con la vita, con la vita, con la vita. Due tenori e un baritono che hanno messo d'accordo tutti nella condivisione delle interpretazioni di brani della tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni e brani pop in chiave classica. Per i vincitori del Festival di Sanremo 2015 è anche un momento per raccogliere regali portati per loro da alcuni fan e qualche piacevole battuta scambiata col pubblico. Grazie. Grazie. Grazie.